Di chi voleva una cosa, l'ha ottenuta a costo di tanti sacrifici e sofferenze. Presidente, la grande... Grande regina, grande! Di nuovo nell'Olimpo del Caccio! Allora, fammi abbracciare i miei, dai! Grande gioia per Colomba, Foti, al microfono del collega Pietro Melia. Sul terreno deliberati la regina Corona è il suo sogno. Il sapore della sconfitta neanche viene avvertito, ubriacante quello della massima serie, riabbracciata ancora. La cronaca ruota tutta intorno all'episodio del rigore che Farina decreta nel recupero del primo tempo per un contatto in area tra Adescina e Zoffetti. Bucchi trasforma tra le protette degli ospiti. Tre punti importantissimi per la Ternana che ora dovrà ripetersi domenica prossima a Bari per strappare il biglietto all'ennesima stagione in Serie B. L'epilogo dell'incontro è tutto da dimenticare con un imprevedibile scontro tra le due tifoserie sul rettangolo del Liberati. Botte da orbi anche per uno scarso servizio d'ordine. Decisivo l'intervento del presidente della Ternana, sceso dalla tribuna al terreno di gioco per placare gli animi dei tifosi e rimandarli sugli spalti. I rapporti tra le due società restano saldi, quelli tra i tifosi un po' meno. Sono contento per la regina e spero che con la prossima partita anche noi riusciamo a salvarci e rimanere in Serie B.